Siamo a Bocca di Magra, in ogni caso comune di Amelia, Italia che piace fa tappa qui, Piero Rocca incontra uno dei presidenti dei Vespa Club d'Italia, si chiama Garau e c'è uno scambio mi pare ufficiale. Intanto grazie mille per la vostra accoglienza, siamo molto felici di essere qua con voi. E noi felici di ospitarvi. Grazie mille e soprattutto conoscete le strade perché oggi stamattina ci siamo persi. Ringraziamo gli amici di Spezia TV, continuate a seguirci, a mettere il mi piace su Italia che piace, cercatelo su Facebook e potrete seguirci lungo tutto il tour italiano. Ora 5 terre e poi via via tutta l'Italia fino a Palermo. Grazie a tutti, ciao! Anche a Spezia l'Italia piace!